Questo video ti parlo di un tipo particolare di narcisismo, il narcisismo elitario. Vediamo di cosa si tratta. Il narcisismo ovviamente è quell'organizzazione di personalità che si struttura successivamente ad una serie di eventi frustranti, umilianti per l'ego della persona. Quindi, che cosa fa la nostra mente? Sviluppa un ego alternativo che è in grado di affrontare quelle situazioni che l'ego originario non è stato in grado di affrontare. Detto in suo dono, in estrema sintesi, vai a vedere gli altri video sul narcisismo che ho sul canale YouTube per gli approfondimenti. Allora, il narcisismo elitario è una definizione non diagnostica che si rifà a degli aspetti specifici della persona narcisista. E cioè al suo, al fatto di appartenere ad un'elite o di credere di appartenere ad un'elite. Cioè, il narcisista elitario è una persona che solitamente ha un passato glorioso alle spalle. Viene da una famiglia di nobile lignaggio, da una famiglia che ha una storia importante anche se non è una famiglia nobile. Quindi, in qualche maniera, la sua storia lo inserisce all'interno di un ristretto gruppo di persone che sono diverse dagli altri. Una elite. E il suo atteggiamento è l'atteggiamento di chi ritiene che debba essere rispettato, trattato con riguardo, con reverenza, in quanto appartenente a quella elite. Ma spesso sono persone che, pur millantando chissà quali crediti, non hanno niente di speciale, se non il fatto di appartenere a quella elite specifica. Non hanno doti particolari, non hanno competenze particolari, non hanno fatto niente di particolare. I rotocalchi si divertono molto a descrivere le storie di delfini, di famiglie importanti, industriali, che sono finiti male per abuso di sostanze, per inettitudini vari, per insuccessi vari nella loro vita. Ecco, molte di queste persone, non tutte ovviamente, poi bisogna vedere i casi specifici, però sostanzialmente sono alcune di queste persone, sono persone che hanno questa forma di narcisismo elitario. Io sono una persona che appartiene ad un determinato tipo di categoria, motivo per cui io devo essere trattato con reverenza e sono superiore in quanto appartenente a quella categoria. E questo narcisismo, purtroppo, è una forma compensativa, malariuscita del più classico narcisismo grandioso, perché il narcisismo grandioso quantomeno ti dice io sono migliore degli altri perché sono io, non perché appartengo ad un'elite. Quindi, in queste persone, il contrasto tra la propria inettitudine e il proprio fallimento e l'appartenere ad una elite, e quindi il ritenersi superiore in quanto appartenente ad un'elite, è molto forte e molto evidente. Alcune persone che non hanno un nobile lignaggio ricercano di proposito gruppi di crescita di vario genere che siano comunque dei gruppi abbastanza ristretti e ricercano di appartenere a questi gruppi proprio perché sentono e avvertono il bisogno di erigersi non in quanto io superiore, ma in quanto persona che appartiene ad un'elite. Quindi sono dei narcisisti che hanno una forma di narcisismo che io definisco un po' malariuscita perché hanno bisogno della certificazione da un ente esterno per essere superiori agli altri. Ecco, che narcisista sei? Se sei un narcisista ti senti superiore perché sei te e chiediamine. Ecco, questi qui no, hanno bisogno di questo senso di appartenenza. Narcisisti elitari sono anche quelli che non appartengono a dei gruppi ristretti elitari, non hanno un lignaggio di nessun genere, ma vantano conoscenze in ambienti di persone famose, di persone importanti, di persone che appartengono ad un'elite. e quindi sono come pianeti, non sono stelle, sono pianeti che non brillano di luce propria, però hanno questo riflesso solare che viene dalla conoscenza, dall'appartenenza, dal vantare queste conoscenze di persone che appartengono a queste elit, che in qualche modo gli donano una luce speciale anche a loro. È un po' come se anche io fossi uno che appartiene a questa elit. Ecco, solitamente queste persone sono persone di una enorme insicurezza in cui il conflitto psicologico tra il personale senso di nettitudine e inferiorità e il senso di grandiosità, del sé grandioso del narcisismo tipico dell'organizzazione di personalità narcisistica è molto forte, più forte che in altre forme di narcisismo e questo perché? Cioè, cos'è che ti fa capire che è ovvio che ci sia un conflitto così forte? Perché hanno bisogno di un ente esterno che li certifichi per sentirsi superiori agli altri o speciali rispetto agli altri o migliori rispetto agli altri o diversi rispetto agli altri diversi intendendo superiori diversi dagli altri, migliori dagli altri. Non hanno una forma di narcisismo sufficientemente strutturata che permette loro di in qualche modo autodefinirsi migliori degli altri. Ecco, e quindi ricercano degli escamotaggi. Nel caso di persone che invece appartengono già che hanno un lignaggio alle spalle e in qualche modo li introduce in quella direzione, molto spesso c'è questo senso di nettitudine e questo conflitto diventa pesantissimo perché tendono spesso a diventare un po' le pecore nere di queste famiglie. Quindi tutte le trasgressioni, alcol, droga, prostituzione, diventano le pecore nere di queste famiglie perché? Perché è il modo con il quale i due poli opposti di questo conflitto si manifestano. Da un lato io sono migliore degli altri e merito la reverenza degli altri perché appartengo ad un'elite. Ho questo lignaggio alle spalle che mi mette, mi pone al di sopra delle persone, su un piedistallo. Dall'altra parte ho questo incredibile senso di nettitudine che mi porta a una forma di disperazione quasi che ho bisogno di contenere e che esprimo tramite appunto i comportamenti negativi e trasgressivi che da un lato servono a compensare il disagio psicologico, da quell'altro lato ad affermare la propria differenza rispetto alla famiglia a cui appartengono e di cui avvertono il peso e dall'altra parte ancora più semplicemente è il lato oscuro della personalità narcisista, quello che solitamente non viene mostrato e che quando si ha a che fare con personaggi che magari appartengono a famiglie famose è anche difficile nascondere perché c'è lì un gioco a stanare insomma la pecora nera e a svelarne il lato oscuro perché questo fa vendere copie, fa pagare le fotografie, eccetera 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 fa notizia, no? Ecco, tutti i narcisisti hanno in realtà questo lato oscuro ma non tutti i narcisisti hanno vagoni di paparazzi che non vedono l'ora di beccarli sul fatto per poter fare notizia e diventare a loro volta famosi. Spero di essere stato chiaro, fammi sapere nei commenti se conoscevi queste caratteristiche del narcisismo, sono curioso.